Grazie a tutti. Grazie a tutti, Giovanna. Siete tanto cari. Arrivederci, Giovanna, e buon ascolto. Grazie, signora. Arrivederci. E adesso andiamo a ricordare il nostro recapito telefonico, che è sempre l'810640, con la bellissima voce di Salvatore Solinas, papaveri e paperi, per tutti i bambini. E adesso andiamo a ricordare il nostro recapito. 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 Salvatore Solinas, Salvatore Solinas, e per tutti i bambini. Questo disco era dedicato a tutti i bambini in ascolto. E andiamo con la prossima diretta. Pronto? Buonasera, signora. Buonasera. 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 Buonasera.